... Cassonetti stracolmi e disagi anche a Palermo, sia nelle zone del centro che in periferia. ...il punto sull'emergenza dei rifiuti, oggi via... ...la discarica di Palermo, l'AMIA, l'azienda che si occupa della gestione, interviene per limitare l'allarme percolato, bomba ecologica... C'era una volta, una bella discarica abusiva sotto la mia finestra... ...un buon punto di partenza per un film sui rifiuti... ...una favola con personaggi e mostri per nulla inventati. ... 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